... Riteniamo che questo programma risponda perfettamente a quelli che sono due caratteristiche identitari della SET, quella che il pubblico ci riconosce da sempre, che sono la qualità e la capacità di innovazione. Sulla qualità, credo che i protagonisti di questo programma, la grandissima squadra che è qui con noi oggi, che abbiamo modo di conoscere questo programma, si commenti da sola, la partnership con Colorado Film, con la squadra di Novezzo Totti, è un leader assoluto in questo tipo di produzione e quindi per noi è stato un lavoro molto positivo, molto intenso di costruzione di questo programma insieme. Quindi l'arricchimento della nostra offerta sia, ripeto, per il pubblico che segue la SET, che crediamo possa trovare un appuntamento importante in più, sia anche cercando di cogliere quello che è un target più giovane, che questa è una sfida evidentemente di tutte le reti in questo momento, delle reti generalisti in modo particolare. Quindi per noi è una scommessa importante, siamo molto convinti di questo programma, dell'ottimo lavoro fatto insieme, quindi pensiamo proprio di riuscire a far ridere il pubblico, il nostro pubblico, il pubblico della SET e quello che ci seguirà.